La morte dell'anziana andriese, 78enne Carmela, dopo alcuni giorni di agonia a seguito dell'aggressione subita all'interno della sua abitazione in un tentativo di rapina, ha destato grande sgomento nella città di Andrea. Da più parti si è chiesto un intervento più deciso delle istituzioni per assicurare maggiore sicurezza in una recrudescenza criminale che spaventa, ma nel dibattito acceso soprattutto con toni molto animati sui social network è voluto intervenire Don Michelangelo Tondolo, parroco di San Riccardo, la chiesa del quartiere di San Valentino, della quale la signora Carmela era anche parrocchiana. Era una signora dolcissima, tenerissima, tre anni fa quando sono venuto in questa comunità e quando ho iniziato un po' a conoscere tutti gli ammalati sono andato anche da lì ed è stata una bella esperienza e in questi anni sia io ma soprattutto il ministro sardineo della comunione che regolarmente portava la comunione, ecco abbiamo sempre mantenuto questo legame. Ultimamente meno per colpa del virus, del covid, però comunque è una nostra, ecco considerando la parrocchia come una famiglia era una nostra nonna, era nostra e noi ci sentiamo legati, infatti anche noi abbiamo subito il colpo. Impariamo a vedere nelle gemme che si riempiono l'arrivo dell'estate. Sono queste solo alcune delle parole con le quali ha voluto esortare tutta la propria comunità e non solo Don Michelangelo, un no chiaro alla vendetta sommaria nei confronti del presunto autore, un 26enne, ma preghiera e poi la richiesta a tutti di stringersi davvero attorno alla signora Carmela che non c'è più e dalla sua famiglia in questo bruttissimo momento. Me lo insegnano anche i maestri di spiritualità e anche Gesù stesso, l'eventuale vendetta non fa altro che creare altra vendetta, non fa altro che creare altro male, altra sofferenza e poi comunque sia c'è il rischio anche di fasi giustizia da soli e questo significa poi essere, come dire, cogliere chiunque, anche chi magari non c'entra niente nell'episodio nell'episodio in sé. E purtroppo questa lettera io l'ho voluta soprattutto rivolgere ai miei parrocchiani perché desidero che i miei possano, i miei e tutti comunque, possano comunque affrontare il cammino difficile però del perdono, della misericordia e comunque della condanna solo del gesto, solo del gesto. Della persona è chiaro che in questo caso è già nelle mani della giustizia e quindi farà il suo corso e io non ci ho tenuto anche nella lettera di pregare per lui.